Bentornati ragazzi, sono Giovanni e sono tornato ecco con questa rubrica, la rubrica delle recensioni della serie tv Netflix Stranger Things che appunto ritorna con la seconda stagione, come voi ben sapete la prima stagione mi è piaciuta particolarmente, l'ho perfino paragonata alla prima stagione di Lost, ovviamente non è a livello della serie televisiva che fu appunto rilasciata nel 2004 però appunto sotto certi aspetti mi ha ricordato Lost, una prima puntata appunto di questa seconda stagione intitolata Mad Max e quindi, e sì insomma, ci vengono presentati nuovi personaggi, nuove storie appunto, nuove sottotrame e vediamo ovviamente, sì vediamo alcune storie approfondite, alcune storie della prima stagione che appunto in questa puntata vengono diciamo spiegate, vengono approfondite e questo mi fa molto piacere, mi fa molto molto piacere una serie sotto l'aspetto cinematografico che continua a convincere anche all'inizio di questa seconda stagione vediamo soprattutto le scene coperte diciamo dalle tracce audio che sono come sempre gestite alla grande sempre con queste inquadrature medie che a me piacciono particolarmente quindi sì, scene gestite bene, anche le scene misteriose gestite molto bene appunto con questa atmosfera ecco, questa atmosfera di mistero e di paura che viene creata alla perfezione anche grazie alla gestione del suono in questa serie televisiva a proposito della gestione del suono, se c'è una cosa che non mi è piaciuta di questa prea puntata della seconda stagione di Stranger Things è appunto l'uso, secondo me inappropriato, del suono non diegetico che in alcune scene singolari diciamo non... viene appunto utilizzato molto male viene utilizzato molto male faccio un esempio adesso, mentre due personaggi stavano camminando in un corridoio insomma una scena molto silenziosa i passi, si sentiva perfettamente che i passi appunto non erano contemporanei cioè non c'era diciamo un legame esatto tra le immagini e l'audio appunto e questa è una cosa che mi dispiace molto però... però sì, però sì ragazzi parliamo, parliamo di... delle situazioni appunto che ci vengono presentate in questi primi 47 minuti della nuova stagione scusate per la tosse, sto ancora male che cosa ci posso fare? allora da dove partiamo? da dove partiamo? partiamo dai ragazzi partiamo dai ragazzi Mike, Dustin, Lewis e finalmente Will finalmente Will ritrovato al termine della prima stagione loro quattro insieme appunto passano del tempo in questa grande sala giochi dove il loro record ha un giochino specifico viene battuto, viene battuto in particolare il record di Dustin viene battuto da questo Mad Max che appunto i ragazzi devono scoprire chi è devono scoprire chi è e lo scoprono lo scoprono è questa nuova ragazza introdotta dal professore alla classe questa ragazza molto badass ecco, se bisogna usare termini inglesi insomma una ragazza molto aperta possiamo dire aperta diciamo con atteggiamenti molto maschilisti questo è quello che vediamo dalle poche scene in cui compare appunto questa ragazza di nome Maxine di nome Maxine appunto Mad Max quindi sì secondo me sarà sarà un nuovo membro un nuovo membro del loro gruppo finalmente una ragazza nel loro gruppo e appunto sono molto interessato sono molto interessato di vedere come gli sceneggiatori riusciranno a a introdurla in un primo momento e poi ad approfondirla e a caratterizzarla in un secondo gli sceneggiatori ragazzi stanno facendo un lavoro egregio un lavoro egregio questa è una serie davvero scritta bene è una serie davvero scritta bene si vede che la fase di preproduzione diciamo è più curata è più curata della fase di postproduzione che alcune volte lascia 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 desiderare ecco però sì insomma veramente una sceneggiatura una sceneggiatura ben scritta ma passiamo ad altre storie ragazzi passiamo ad altre storie l'intreccio l'intreccio sempre più intrigante tra Jonathan Nancy e il mio idolo Steve sì il mio idolo Steve ma a me fa un po' dispiace un po' per per il povero Jonathan ecco Jonathan è innamorato di Nancy ma Nancy sta con Steve lo abbiamo visto anche dal finale dai minuti finali dell'ultima puntata appunto della prima stagione quindi sì Nancy sta con Steve comunque è una coppia affiatata questo è quello che ci hanno fatto vedere gli sceneggiatori appunto è una coppia affiatata una coppia affiatata uno Steve che sembra aver rimesso la testa a posto dopo le grandi cazzate del fatti appunto nella prima stagione partecipa a una scena con i genitori di Barbara insieme a Nancy e questo dimostra dimostra tante cose i genitori di Barbara ragazzi che che pensano ancora che la figlia sia viva ma ovviamente ma ovviamente un diciamo una fetta di protagonisti una fetta di personaggi nonché quasi tutti sanno che Barbara è morta e il corpo si trova nel nel nell'upside down sotto sopra ecco nella dimensione nella dimensione alternativa parallela ecco e questo ragazzi una scena veramente veramente triste una scena veramente triste insomma genitori che che continuano che sperano ecco che sperano di ritrovare la loro figlia hanno chiamato un investigatore un investigatore e stanno vendendo la casa appunto per 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 riuscire a pagarlo e si vede tutto il dispiacere di Nancy tutto il dispiacere di Nancy che che si rifugia in bagno e in una scena anche quella è una scena davvero al bacio al bacio è un grande dispiacere un grande dispiacere finalmente finalmente abbiamo visto abbiamo visto una sequenza che appunto dove appunto troviamo Nancy e Mike diciamo nella nella relazione fratello sorella che nella prima stagione non si è praticamente mai visto così Mike ruba ruba prende in prestito i soldi nel sabato nel sabato di Nancy e corre via yes Will continua ad avere visioni della dimensione della dimensione alternativa della dimensione parallela visioni terrificanti diciamo e tutti lo sanno tutti lo sanno al contrario di molti film Will ha confessato ha confessato di avere queste visioni alla madre e allo sceriffo Hopper che appunto sembra ogni mese oppure ogni settimana questo ancora non si è capito si dirigono si dirigono in questo in questo posto insomma sembra sembra un ospedale sembra un ospedale insomma in questa costruzione questo palazzo per appunto fare accertamenti medici nei confronti del 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 ragazzino quella secondo me la scena la scena migliore del film ovvero il parallelismo tra le domande del dottore e le risposte di di Will e la diciamo la la macchina che mostra appunto i battiti non so le pulsazioni ecco del all'interno del corpo di Will quella veramente una bella scena la migliore scena della puntata secondo me davvero un ottimo parallelismo e un ottimo montaggio anche un ottimo montaggio quindi sì continua a avere visioni ha visto ragazzi questo questa specie di ragno gigante nella nella dimensione parallela ricoperto da una tempesta rossa rosso fuoco questo questo mostro gigantesco ragazzi è davvero è davvero interessante è davvero interessante sarà interessante vedere cosa cazzo succederà e che altro Joyce la madre di Will che intanto si è trovata un partner si è trovata un partner questo Bob questo Bob molto diciamo estroverso molto estroverso ecco che un ragazzo un ragazzo un ragazzo un uomo un uomo solare che dimostra che dimostra appunto un'ottima caratterizzazione vedremo se appunto sarà importante ai fini della trama di questa stagione oppure no ho ragione ho ragione di credere che lo sarà e intanto ragazzi lo Sheriff Hopper intanto lo Sheriff Hopper come io avevo pronosticato alla fine della della prima stagione si sta prendendo cura di Undici che è ancora viva Undici è ancora viva e eh ragazzi vediamo questa Undici in versione capelli ricci Undici che mi piace ragazzi uno dice mi piace lo sapete è il mio secondo personaggio preferito dopo il mio idolo Steve e e e vedremo e vedremo vedremo appunto si sta prendendo cura di lei yes ho le visioni credevo che qualcuno avesse bussato la mia porta però continuiamo appunto all'inizio la prima la prima scena diciamo la prima sequenza di questa puntata ci mostra un altro diciamo un altro come posso chiamarlo un'altra persona un altro personaggio con i superpoteri che appunto esce dal è scappata è uscita dal dal dai laboratori di Hawkins e ha appunto un tatuaggio un marchio con scritto Otto quindi se Undici è l'undicesimo diciamo cavia da laboratorio dei laboratori di Hawkins quel personaggio che abbiamo visto all'inizio della puntata probabilmente è l'ottavo e anche lei ha il superpotere appunto fa venire diciamo fa venire visioni alle persone alle persone a suo piacere e divertimento mi aspettavo mi aspettavo appunto che fosse più approfondita in questa puntata però ci sono ci sono molte più situazioni di quanto di quante ne troviamo nella prima stagione e questo appunto è di buona prospettiva sono interessato sono interessato non so se ci sono cose da aggiungere sinceramente no non ci sono cose da aggiungere ah per fortuna perché se no ce ne sarebbero troppe veramente ah si le zucche va bene diciamo che la situazione delle zucche ancora non si è capito bene chi è il colpevole o che cosa è il colpevole ecco in Stranger Things non si sa mai però ragazzi si questi sono i miei commenti a caldo sulla prima puntata della seconda stagione di Stranger Things intitolata Mad Max e spero appunto che vi sia piaciuta questa specie di recensione se è così allora spingete like qui in basso a sinistra alla mia sinistra alla vostra destra probabilmente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video grazie